Quest'oggi siamo qui per cogitare con una persona che si occupa professionalmente di comunicazione e marketing, con un'imprenditrice digitale, al nome Arianna Lai. Purtroppo i Cogito Studios non hanno ancora le risorse economiche e la struttura per portare persone dalla Spagna, sì perché Arianna, pur essendo cagliaritana, vive a Siviglia e opera a distanza. Fa comunicazione in modo molto interessante e adesso andremo a conoscerla e a cogitare insieme a lei, ma non prima della sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Ed eccoci qua, ciao Arianna e benvenuta qui su Daily Cogito. Come te la passa? Ciao Rick, grazie per avermi invitato, molto bene, molto molto bene. Bene, bene, sono molto contento di averti qua perché qualcuno se ne sarà accorto che io negli ultimi mesi non ho praticamente mai invitato, o soltanto in alcuni casi specifici, persone che si occupano di comunicazione perché io sono allergico di solito a chi dice di occuparsi di comunicazione perché occuparsi di comunicazione significa tutto e niente e ti trovi dei personaggi che dicono di fare quella roba lì che stai lì e dici ma come fai tu a dire di occuparti di comunicazione con le cose che scrivi e dici? E invece poi qualche anno fa io ho conosciuto il tuo progetto perché insomma ci siamo contattati e sono stato sul tuo Instagram e ho cominciato a seguire un po' il tuo lavoro che si è molto evoluto negli ultimi anni e quindi ho detto beh io con Arianna voglio farla una cogitata e quindi insomma benvenuta qui su Daily Cogito, è un piacere averti. Se qualcuno degli ascoltatori non dovesse conoscere il tuo lavoro, in qualche parola com'è che introdurresti quello che fai? Qualche parola direi che aiuto i liberi professionisti in particolar modo a capire quale vuole essere la loro proposta di valore gli aiuto a posizionarsi, gli aiuto a raccontare verso l'esterno quello che è il loro posizionamento attraverso la costruzione della propria marca personale che non è nient'altro che il personal branding solo che io l'ho tradotto in italiano perché quando ho iniziato a studiare personal branding l'ho fatto qua in Spagna qua si parla di marca personale quindi automaticamente l'ho tradotto e così è rimasto e devo dire che sono molto contenta perché lo uso solo io quindi è coll'esclusiva su questo termine. Quindi la marca personale è che è una cosa particolare perché faccio una piccola introduzione anch'io in passato in alcuni casi mi sono occupato di queste cose perché le ho studiate, le ho fatte per un periodo soprattutto nel periodo di transizione fra il lavoro che facevo prima e quello che faccio adesso e poi mi è capitato di fare comunque consulenza in azienda e mi trovo di fronte a questo aspetto che è molto difficile permettere a qualcuno di rendersi conto di qual è il proprio personal brand quindi la propria marca personale ed è molto difficile quando conosci la persona. Tu nell'ultimo anno ti sei trovata a non avere contatti diretti, cioè a non vedere la quotidianità magari dei clienti con cui lavori. Come ha impattato la pandemia su questo tuo lavoro? Ma in realtà il mio lavoro non ha risentito particolarmente della pandemia anzi si è sviluppato durante questo periodo nel senso che mi ha messo alle strette. Io ho iniziato ad occuparmi di marca personale solamente l'anno scorso nel senso che io prima lavoravo appunto nella comunicazione, nel marketing, lavoravo in agenzia io ho lasciato il mio lavoro a gennaio dell'anno scorso quando pensavo di iniziare con il mio progetto l'idea era quella di fare un workshop in giro per l'Italia iniziata la pandemia e quindi è stato lì quando effettivamente ho deciso di cambiare rotta casualmente si sono connesse tutta una serie di cose sono allineati gli astri per così dire e ho iniziato appunto a leggere libri che avevano a che vedere con la marca personale e ti dico che lì in quel momento mi sono resa conto che era un qualcosa che si poteva fare da ovunque e con chiunque sempre quando ci fosse la volontà nel senso che cosa succede quando io ho a che fare con i miei clienti che loro mi consegnano un questionario con delle domande specifiche che io pongo loro che mi aiutano a capire effettivamente quelle che sono le loro abilità le loro aspirazioni, i loro obiettivi e in funzione di quello poi lavoriamo appunto al posizionamento e alla costruzione della marca personale quindi non impatto mi manca il contatto mi manca il contatto ti dico la verità mi piacerebbe tanto nel momento in cui finisce questo periodo poter non spostare però ampliare quello che sto facendo online anche offline però sono fra i fortunati che anzi in questo periodo di pandemia ho avuto modo di riflettere, di pensare, di baccare lo spensamento come si diceva, di farli scendere e di riuscire effettivamente a costruire ok ok, questo è interessante e quindi partendo dal digitale arrivare poi al contatto personale e tu nel digitale nell'ultimo anno tu sei stata una di quelli che ha cercato di espandere la propria attività ed è nato anche il tuo podcast che è Io mi proclamo che ora non ricordo quando è nato ma è nato tipo un annetto fa circa sì, diciamo che il primo episodio su Spotify perché inizialmente io l'avevo pubblicato come IGTV chiaramente sbagliando completamente il mezzo spostato su Spotify a maggio è stato il primo episodio a maggio e io ho ascoltato una puntata particolarmente interessante proprio qualche giorno fa quando ti ho contattata ho detto aspetta che mi recupero qualche puntata che non avevo sentito ce n'è una che mi è piaciuta veramente tanto che è la tredicesima che è Vittime ai martiri come imparare a spostare il focus su noi stessi ora tu in questo ambito hai detto delle cose che mi trovano molto molto concorde e che vorrei sottoporti per farci qualche ragionamento insieme tu in questo podcast fondamentalmente vai a stigmatizzare quell'atteggiamento di chi guarda la propria relazione col mondo si accorge che magari in alcuni ambiti non ce l'ha fatta ha fallito e ovviamente esternalizza le cause di questo fallimento e quando esternalizzi le cause di questo fallimento qual è il gioco più semplice che c'è? ovviamente è quello di considerarti vittima di qualcosa c'è un bellissimo libro che io spesso ho citato negli ultimi anni che è un libro che parla proprio di questo fatto che si intitola Critica della vittima ed è un libro di Daniele Giglioli che è professore attualmente all'Università di Bergamo ed è un libro che porta avanti tesi molto simili ovviamente radicalizzandole ulteriormente cioè dicendo guardate che questo atteggiamento della vittimizzazione ha tante sfumature e porta con sé un sacco di problemi prima di tutto ci fa dimenticare che le reali vittime ci sono in secondo luogo perché poi ricordiamoci che di solito le reali vittime sono quelle che non vogliono mai farsi definire come vittime ti do un consiglio di lettura veramente spettacolare se ti interessa c'è un giornalista giapponese che adesso è scomparso qualche anno fa è anche stato premio Nobel Kenzaburo Oe che ha scritto un libro dal titolo Diario di Hiroshima no anzi scusami Viaggio a Hiroshima e lui incontrando gli Ibakusha gli Ibakusha sono i sopravvissuti alla bomba si è accorto che in realtà tutti quelli che sono sopravvissuti alla bomba non vogliono essere definiti Ibakusha perché loro vogliono sì che la loro vita sia definita su quello che loro fanno della loro vita non quello che hanno subito e questo mi ha ricordato moltissimo cioè il tuo podcast mi ha ricordato moltissimo questo ragionamento ovviamente questo è un discorso molto delicato perché in un'epoca in cui la vittimizzazione invece è ricercatissima potrebbe essere una strategia di marketing controproducente quella che proponi tu beh io penso di avere un approccio al marketing in questo senso un po' controcorrente nel senso che io parto dal presupposto che intanto se vuoi effettivamente lavorare alla tua marca personale quindi a costruire quello che è il tuo progetto devi avere il focus puntato su di te e sulle tue risorse ci siamo abituati a guardare sempre nella direzione del cosa ci manca cosa non abbiamo ancora guadagnato a che punto sono gli altri invece secondo me è importante inghiottire quella luce che stiamo proiettando in mille direzioni diverse e cercare di fare prima introspezione quindi di capire bene chi siamo e cosa vogliamo e poi di lavorare di conseguenza può sembrare controproducente perché per certi aspetti facendo questo discorso tu stai un po' responsabilizzando la persona tant'è che ci sono dei clienti che vengono da me mi scrivono mi dicono guarda ti cerco fra un paio di mesi perché ancora devo capire delle cose su di me e questa cosa a me fa veramente felice perché significa che non vengono da me con la speranza che io possa svoltare la vita perché appunto sono la Sibilla Cumana con la mia sfera di cristallo riesco a vedere il futuro e so in che direzione devono andare ma in qualche modo sono riuscita proprio con questo tipo di comunicazione a responsabilizzarli cioè a fargli capire che parte in primis da noi quindi da quello che noi vogliamo fare con noi stessi e poi evidentemente ci sono tutta una serie di tecniche di strategie che adottate possono portarti verso il raggiungimento di determinati obiettivi speciale nel mondo digitale e tu uno degli aspetti che su questo tentativo di conoscenza di sé conosci te stesso letteralmente quindi anche un contenuto che rimanda a delle idee filosofiche in questo processo tu punti molto l'attenzione su quelli che sono poi i fallimenti ora nel tuo percorso tu cagliaritana trasferita a Sibiglia che ha mutato pelle negli ultimi anni quali sono i fallimenti che ti hanno insegnato di più fondamentalmente e quanti sei disposta a farne ancora di fallimenti perché poi è la domanda che non si fa mai quanto sei disposta a fallire ancora cioè il lavoro che fai sei sicura che sia quello che vuoi fare e hai le capacità di portarlo fino in fondo quindi sul fallimento com'è che la vedi dal punto di vista tuo personale? Io sono disposta a fallire tutte le volte che ci bisogna nel senso che per me fallimento equivale ad azione è impossibile fare cose e non sbagliare mai partiamo da questo presupposto che l'unico modo per non sbagliare è non fare quindi fatta questa premessa ti dico che io non ho nessuna paura di fallire ho fallito tante volte il primo fallimento che ricordo che in qualche modo mi ha anche preso la sprovvista mi ha fatto male è stato in giovane età avevo vent'anni io all'epoca lavoravo da modella e avevo scommesso in quel momento storico tutte le mie energie su quel lavoro nonostante voglio dire sia un qualcosa che si sa che arrivati a una certa non esiste il gallina vecchia ma von Brodo nel mondo della moda sta di fatto che nonostante io fossi consapevole per certi aspetti di fatto tutto nasce dall'anno dal discorso del sto usando solo il 30% delle mie risorse nonostante fossi consapevole di questo nel momento in cui non sono riuscita a raggiungere il 100% quindi gli obiettivi che io mi ero prefissata in quest'ambiente sono stata proprio presa dallo sconforto ho abbandonato anche quel 30% perché ho smesso di fare la modella quando avevo 23 anni e lì è stato proprio un partire da zero io non sapevo chi ero non sapevo cosa volevo fare non sapevo in che direzione volevo andare ero completamente persa e vedevo i miei coetanei che nel frattempo si prendevano la laurea insomma avevano un background diverso dal mio che fino allora ero stata in giro in Asia appunto a lavorare e da quel fallimento ci ho messo un po' a riprendermi perché appunto mi ha lasciato così senza il nord diciamo e poi da lì fino effettivamente al raggiungimento di quello che ho in questo momento ci sono state tantissime defaianze tantissime cose che però mi hanno insegnato tantissimo e ti dico che per esempio le prime cose che io ho fatto anche a livello di pseudo start up non ti parlo neanche di start up vera e propria perché certe cose sempre più rimaste in uno stadio talmente tanto embrionale che non potrei neanche parlare di impresa però mi ci sono sempre impegnata così tanto nei miei progetti personali che anche se andavano male poi comunque sia rimaneva con me tutto l'insegnamento nato a radice di quel fallimento perciò se questo lavoro che sto facendo in questo momento non mi porterà più lontano di dove sono adesso non importa perché sono sicura che dal fallimento di questo ci sarà il successo che seguirà quindi non... questo è molto importante come pensiero però ti provo a scavare ancora un po' più a fondo quanto con... perché ci sono... io credo che nella vita professionale in realtà nella vita di tutti i giorni ci sono due tipi di fallimento e in realtà ce ne sono molti però possiamo dividerli in due categorie da un lato c'è il fallimento quello casuale cioè quello che non stai cercando quello che arriva out of the blue quello che anzi ti sorprende completamente faccio un esempio personale una scodicciata sui denti la chiamo io una scodicciata sui denti esatto quando io giocando a pallacanestro mi sono rotto il ginocchio per me quello è stato un fallimento perché è stato un fallimento di quello che poteva essere un percorso un po' più lungo che assolutamente era completamente impensabile che ha cambiato radicalmente il mio modo di pensare di vivere e ci ho messo anch'io un bel po' di tempo per ripigliarmi e poi c'è un altro genere di fallimento che è un fallimento che è quasi cercato cioè che è un fallimento derivante dal prendersi dei rischi che è un fallimento quindi che tu metti in conto cioè tu fai delle scelte e dici ok io faccio questa scelta e questa scelta potrebbe portarmi a farmi malissimo ecco in questi due generi fallimenti per esempio c'è Taleb fra altri autori che ne parlano che dice se tu persegui il secondo fallimento quindi cerchi di ragionare sempre sul rischio che ti prendi skin in the game i rischi che ti prendi e cerchi di commisurarli poi ai piccoli fallimenti eviti per quanto possibile o rimandi o parcellizzi ancora meglio i grossi fallimenti quelli che non puoi prevedere ecco questo nell'ambito del lavoro che tu fai ha un peso ha un riscontro o è fuffa intellettuale di Taleb secondo te ma io penso che nel mio campo cioè le persone che poi hanno bisogno diciamo della mia figura abbiano così tanta paura di di sbagliare che tutto questo ragionamento che tu hai appena esposto è al siguiente livello no cioè al prossimo step prima bisogna in qualche modo prendere consapevolezza del fatto che fallire non è un problema e poi lo si può in qualche modo declinare in varie sfumature cercare di capire se lo si può prevenire se lo dobbiamo andare a cercare eccetera però secondo me nel mio campo siamo ad uno stadio antecedente rispetto a tutta questa evoluzione di pensiero ok quindi tu dici che parti proprio dalla base la gente neanche riesce a concepire il fatto che ci possa essere un fallimento hanno molta paura io ho una domanda che faccio spesso per continuare a vedere se effettivamente i problemi sono sempre quelli che cosa ti blocca che cosa che cosa si infrapone fra te e il raggiungimento del tuo obiettivo per tante persone la paura è proprio quella del fallimento quella del farsi vedere in una condizione di disagio di debolezza sì di debolezza perché nel momento in cui tu fallisci automaticamente che cosa associ il dito puntato della persona che hai davanti che stava seguendo la tua traiettoria quindi secondo me appunto nel mondo della marca personale quindi nel mondo del personal branding siamo ancora allo stadio del non è poi così tanto un problema se fai dei passi falsi certo certo anzi considera che mi muovo tanto anche su Instagram e su Instagram c'è ancora l'idea che tutto debba essere patinato dritto in palette con le cose insomma disposte in un certo modo e alla fine ne paga il contenuto certo certo questo è un aspetto molto importante che io mi sono accorto anche nella mia vita psicologicamente noi siamo siamo cresciuti con persone che hanno nascosto i propri fallimenti e piano piano mi sono reso conto di una cosa che da un lato tu devi saper riconoscere affrontare i tuoi fallimenti dall'altro devi anche imparare a raccontarli io trovo che nell'ambito per esempio dei personaggi pubblici ci sia moltissima questa retorica del dire per esempio l'etica del fallimento esatto l'etica del fallimento cioè si si può fallire si non aver paura di fallire però poi nessuno ti racconta i veri fallimenti perché magari appunto uno ti racconta ti racconta i fallimenti di anni fa tipo come io ok racconto il fallimento di quando mi sono rotto il ginocchio in adolescenza adesso mi è facile raccontare quel fallimento però sicuramente mi è molto più difficile raccontare altri fallimenti magari più freschi magari più recenti e abituarsi a raccontare il fallimento è una cosa molto importante però dall'altra parte c'è sempre il rischio di mitizzarlo quella cosa lì cioè nel senso perché è vero che non devi aver paura di fallire però poi devi ricordarti che tipo fallisci per imparare a non fare più quella roba lì anche questo è un aspetto che spesso sfugge completamente sarebbe abbastanza importante invece ricadiamo continuamente negli stessi fallimenti e da questo punto di vista qua in Spagna dicono l'uomo è l'unico animale che scusami si acavalla l'audio vai tranquilla vai tranquilla ecco ti ti dicevo che qua in Spagna dicono che l'uomo è l'unico animale che inciampa due volte sulla stessa pietra hanno proprio un modo di dire che usano spesso e secondo me è molto vero direi che è proprio perfetto e da questo punto di vista credo che questo aspetto della incapacità di raccontare il fallimento sia legato anche a un problema culturale ora non so come sia lì in Spagna però per esempio qui in Italia siamo molto legati a un pensiero sull'infallibilismo cioè chi riesce in qualsiasi campo poi è una persona che si può esprimere in qualsiasi ambito e le persone pendono dalle sue labbra qualunque cosa dirà avrà valore sulla base delle cose che è riuscito ad acquisire in chissà quale altro campo e anche questo è un aspetto deleterio secondo me mi senti vedo che c'è c'è qualche problema di audio c'è sì no sicuramente c'è qualche problema di connessione ok dovrei provare ad aprire la porta vai pure vai pure tranquilla tranquilla se vuoi dammi un secondo vai vai non preoccuparti eccoci non ho capito ma c'è c'è la porta di piombo che blocca il segnale internet non lo so però ti giuro che è come se in un bunker evidentemente perché ogni volta che apro la porta magicamente riappare la connessione e vabbè guarda consiglio è il caso di cambiare la porta che potrebbe essere fatta di qualche materiale strano forse no forse no che non si sa mai per che cosa possa servire una porta così resistente che non fa passare il segnale giusto 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 comunque dicevamo l'infallibilismo ok cioè legato a questo problema del fallimento c'è l'idea che se uno è riuscito a fare una cosa buona nella vita allora le farà tutte giuste che nel campo in cui tu operi è molto presente cioè è il guru il guru quanto si sente la presenza dei guru tanto infatti io quando dicono associano a me quel termine a me viene un po' di no io non voglio essere il guru di niente di nessuno anzi io sono a favore del ogni persona è un individuo ogni individuo ha la sua storia ogni storia diversa e stiamo dicendo la stessa cosa in quattro frasi diverse ok nel senso giusto per modalità priming finché non non entra il concetto lo ripetiamo in modi diversi a me fa molta paura l'omologazione anche nel fallimento anche nel successo in generale è proprio un qualcosa che mi spaventa quindi cerco in prima persona di evitarlo e di raccontare un modo alternativo che poi magari il mio modo alternativo diventerà un qualcosa di comune di ordinario non lo so però faccio lo sforzo di immettere delle azioni nuove delle cose che magari io non riscontro nell'ambiente circostante e come vivi questo momento storico in cui come mi è capitato di raccontare anche qualche daily cogito fa in cui le paure che noi abbiamo anche la paura di fallire ma tante paure vengono vengono affrontate cercando di trovare la propria appartenenza a un gruppo a un ideale a a qualsiasi cosa se c'è un qualcosa che mi sembra colmare il vuoto che sento dentro allora mi sento appartenente che è molto legato anche al discorso che facevamo sul vittimismo io mi sento parte di un gruppo perché quel gruppo mi dà la forza e quindi ma guarda io questa cosa la sto vedendo anche per dire nella parola multipotenzialità ma per prima l'ho sperimentata questa cosa nel senso che io l'anno scorso ho iniziato l'anno con il grande conflitto perché io due anni fa stavo scrivendo il mio primo libro e nel frattempo però continuavo comunque sia a portare avanti il mio progetto di marketing e avevo questo conflitto questo ma quindi sono carne sono pesce che cosa faccio ma si può essere due cose alla volta devo trovare per forza di cose un fil rouge che unisca queste due cose insomma ero molto confusa mi ha aiutato la lettura di un libro che si chiama One Person Multiple Career e da lì ho scoperto Emily Wapnick il discorso della multipotenzialità e nel riconoscermi all'interno di questo gruppo devo dire che come per magia perché le parole quando le riempi di senso hanno questo effetto mi sono sentita molto più tranquilla molto più serena mi sono accettata e ho iniziato a parlare di multipotenzialità ovviamente a questo discorso si sono associate tutta una serie di persone che si sono sentite come me si sono sentite identificate nella mia storia esattamente come era successo prima a me con Emily Wapnick però vedo che ci sono delle persone che adesso invece iniziano a nascondersi dietro la parola multipotenzialità nel senso che vivi nell'indecisione vivi nell'incertezza ma siccome sei multipotenziale allora puoi scegliere di non prendere nessuna decisione perché potenzialmente puoi fare tutto o addirittura per definizione non hai un'unica vocazione mi nel senso che secondo me ogni parola va dosata ogni cosa va vissuta sotto questo punto di vista in maniera individuale cioè devi prendere il concetto assimilarlo farlo tuo senza però come dire cercare di prendere tutti i connotati che magari appartengono al gruppo ma non sono giusti per te magari per te diventano solo una scusa un baluardo no? mettere muro sì e quindi questo multipotenziale che io ho ascoltato alcune cose che hai detto però è un concetto molto interessante come distingui una persona magari poi dai anche una definizione di multipotenziale così la gente ce l'ha più chiara però come riesci a distinguere cioè qual è lo strumento che daresti a una persona per capire se è multipotenziale oppure se sta soltanto cercando un gruppo di appartenenza per sentirsi più più sicuro più tranquillo intanto il multipotenziale appunto come dicevo prima per definizione è la persona che non ha un'unica vocazione quindi che ha più interessi ha più cose che lo tirano in più direzioni diverse nel mio caso appunto era la letteratura da una parte e il marketing dall'altra ma ci sono persone che convivono con ancora più attività di solito riscontri questa situazione fin dalla giovane età nel senso che magari hai un'esistenza ibrida dove non sei bravo in nessuna materia o sei bravo in tutte ti interessano tante cose hai difficoltà a portare dei progetti a termine perché appunto sei a metà di uno e già ce n'è un altro che ti interessa di più vivi quindi la tua esistenza con la certezza di essere una persona fallimentare incostante inconcludente con il giudizio continuo delle persone che ti circondano che invece sembrano avere un focus miratissimo dici ma come fate e ripeto appunto nel riconoscersi nella multipotenzialità quello che succede è che anziché lottare contro la tua natura semplicemente l'accetti capisci che per te non è possibile focalizzarsi solo su una cosa anche se per dire Emily Wapley divide i multipotenziali in quattro gruppi ti parla per esempio di coloro che lo vivono in termini di simultaneità cioè di persone che portano avanti più attività tutte insieme e persone che invece vivono la multipotenzialità con sequenzialità cioè che magari si focalizzano tantissimo su un progetto su una cosa per tanto tempo dopodiché come la felice decidono appunto di chiudere definitivamente con quella cosa e iniziarne un'altra diametralmente opposta o comunque sia molto diversa da quella che stavano facendo in precedenza il rischio qual è? che nel momento in cui appunto ci si riconosce nella multipotenzialità e si asseconda a quella che è la nostra natura di multipotenziali ci si possa sentire in qualche modo giustificati nel momento in cui non riusciamo a capire in che modo possiamo procedere secondo me il modo per capire se sia multipotenziali è semplicemente quello di guardare anche come è stata la propria vita proprio fin da ragazzini evidentemente non esiste un metodo scientifico e non esiste una cosina che ti pungi nel dito e ti dice sì multipotenziale però sono sicura che dopo questa descrizione chi lo è si riconosce in questa cosa però consiglio appunto sfruttate questa parola per lavorare su voi stessi cioè se hai più interessi vuol dire che dovrei fare con restare paralizzato nell'attesa di capire in che direzione dovrei andare ok allora questo è sicuramente una cosa interessante ti provo a fare un ragionamento per capirlo un po' meglio perché ovviamente di nuovo come dici giustamente si tratta di è una questione di sfumature molto molto individuale quindi si esula da un campo di cioè non si può non è falsificabile il multipotenziale anche perché poi appunto dipende da persona a persona e via dicendo ti faccio un esempio personale io sinceramente non mi sono mai posto il problema della multipotenzialità finché non ho sentito il termine e ho sentito alcune persone che ne parlavano se io guardo nel passato mi rendo conto che soprattutto in adolescenza cavolo non ero solo multipotenziale ero sul limite della schizofrenia perché facevo 18 cose diverse e praticamente dormivo pochissimo e passavo le nottate a fare cose e in alcuni momenti della mia vita ho portato avanti 4-5 cose contemporaneamente a volte questo mi ha portato a momenti di burnout incredibile devastante però ho sempre trovato che ciò che mi permetteva di nutrire tutti questi elementi fosse il connubio fra quegli elementi per esempio quando io facevo l'arbitro di pallacanestro facevo anche l'università quindi studiavo filosofia facevo l'arbitro di pallacanestro poi avevo altre cose e cos'è che ho fatto ho trovato un modo per creare un connubio io ho scritto una raccolta di racconti sulla pallacanestro e sull'arbitraggio per esempio oppure questa mini walk mi chiamerebbe l'abbraccio di gruppo abbraccio di gruppo cioè il multipotenziale che cerca il fil rouge fra tutte quelle che sono le attività che lui ha disseminato nella sua esistenza c'è un gruppo per te perfetto perfetto io non ci entro giuro non ci entro perché io sono un po' allergico ai gruppi però sono contento di saperlo e la cosa la cosa interessante è che poi questa cosa io l'ho tradotta anche poi sull'attività che faccio adesso perché qualche anno fa e poi in realtà esiste ancora anche se non c'è più il nome c'era una rubrica che si intitolava inseparalibri ed era il tentativo di mettere insieme tante storie che non sembravano avere niente a che vedere le une con le altre e tentare di trovare il connubio quindi io per esempio ho trovato l'equilibrio in questo anch'io ancora oggi porto avanti un sacco di interessi perché io videogiochi e poi amo le serie tv e poi faccio produzione di contenuti e studio libri di filosofia faccio 4-5 cose diverse e poi cerco sempre c'ho sempre il ballume nella testa che mi dice ma come faccio a mettere insieme tutta sta roba e poi a volte produco delle cose che sono assurde fuori di testa perché magari il collegamento ce lo vedo soltanto io ecco questo secondo te sarebbe definibile come multipotenziale anche se io non l'ho mai vissuto come un problema questa cosa ecco e questa è la cosa io non ho mai vissuto questa cosa come un problema non l'ho mai sentito come un problema se non appunto per la stanchezza poi di avere tante cose probabilmente perché sei sempre allenato appunto a trovare la connessione a trovare l'intersezione che non è un qualcosa che tutti fanno in maniera spontanea tant'è che sicuramente insomma nelle parole chiave quelle che fanno parte più spesso del mio discorso c'è proprio la parola intersezione perché per me è importante anche nel marketing quando lavori al tuo posizionamento trovare un'intersezione fra quello che tu hai da offrire quello che il mercato richiede quello in cui tu ti senti performante capace però deve essere una ricerca attiva cioè non è un qualcosa non è un'epifania che tu hai la notte mentre dormi ma è una ricerca attiva è una valutazione che tu fai anche magari proprio su carta cioè che tu butti giù quelle che sono le tue abilità le tue capacità le tue esperienze pregresse cerchi di capire effettivamente in che modo trovare la quadra probabilmente tu avevi già questa abilità intrinseca e quindi non hai mai vissuto il conflitto in questo senso cioè invece chi a me è successo così per esempio io ti dico la verità faccio risalire questa cosa faccio la vittima faccio risalire questa cosa a un'esperienza avuta al liceo sostanzialmente sai che appunto devi preparare la tesina quando devi sostenere l'esame di maturità io metto insieme questa tesina scartando tutte le opzioni classiche io ricordo che volevo parlare della soluzione alla insomma avevo presentato Schopenhauer avevo parlato del pendolo fra dolore e noia ma io volevo una soluzione proprio alla tristezza volevo una soluzione al dolore la prima cosa che mi era venuta in mente perciò per me nella mia prospettiva di diciottenne era l'arborizzazione di D'Annunzio e io volevo spiegare questo concetto però secondo me ripeto secondo la mia mente di giovane donna lo volevo spiegare in termini rivoluzionari e quindi avevo preso la pubblicità di Acqua di Gioia dove c'è Emilio di Donato che corre sotto la pioggia e dicevo chiaramente questa è la pioggia nel pinetto cioè nel senso evidente che il regista si ha letto D'Annunzio dopodiché prima però di proporre la soluzione con l'arborizzazione avevo spiegato tutto il processo di sofferenza pessimismo cosmico leopardi ci avevo tirato fuori anche Ligabue con urlando contro il cielo ci avevo fatto un guazzabuglio di roba spiego tutto questo ambaradam la commissione mostro il video la prima reazione è stata quella del presidente della commissione che mi risponde con ah però buona la tipa al che io mi sento un attimo quindi tutti i collegamenti che io ho fatto che magari avevano senso solo per me però cioè non se ne è accorto nessuno guarda tutti hanno visto solo che mi ritornato era una gnocca bene wow e quindi da lì quella che io adesso reputo essere una delle mie maggiori abilità che è trovare dei punti di connessione sicuramente lo faccio meglio lo faccio a 18 anni all'epoca io invece lo vivevo come un non appartengo a niente non ho non ho una stella polare questo è un punto molto interessante io credo che sia allora su questi ambiti è sempre molto molto rischioso perché di nuovo le sfumature sono veramente veramente molto 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 grigie e non c'è mai una demarcazione netta e credo e di nuovo io invito chi ci ascolta ad ascoltare il podcast che hai fatto su vittimismo e martiri credo che sia lì poi la la differenza reale quando tu guardi al tuo passato e magari sai di aver vissuto un disagio ma di non aver mai cercato quello status di vittima cioè non dire mai ah vedi io sono così perché mi è stato fatto questo perché via dicendo che adesso tu ovviamente l'hai fatto come battuta a parte che quella battuta veramente mamma mia mamma mia quante randellate in testa quante randellate in testa però quello è un altro discorso e credo che sia quello un po' la demarcazione cioè quando tu ti rendi conto che hai avuto un disagio ma lo riconosci e non vuoi far nutrire ulteriormente quel disagio cioè senti di aderire a un gruppo non per dire guardate cosa mi hanno fatto ma per dire ah ok potrei usare questi strumenti per allora li cambia effettivamente tutto il problema è che la prima tendenza invece ora è molto molto presente e lo si vede lo si vede in ogni ambito e quindi credo che sia molto particolare questa cosa devo dire che appunto non avevo mai pensato a me stesso come multipotenziale adesso ripensandoci ci sono state delle cose io mi ricordo mio padre che mi diceva molto spesso tu devi metterti in testa di finire qualche cosa e io mi ricordo che non riuscivo a capire cosa voleva dire finire qualcosa di portare a terra e lui lui si incazzava perché io dicevo ma cosa vuol dire finire portare a termine concludere che cos'è questa cosa me la ricordo me la ricordo adesso mi fa ridere allora mi faceva incazzare però si poi io appunto ho sempre cercato di connettere le cose con nuovi stimoli quindi non mi sono mai fermato forse avevo altri problemi per la testa mettiamola così quindi non mi accorgevo di questo aspetto sul multipotenziale c'è un aspetto che vorrei porti perché è un argomento che abbiamo toccato anche su Daily Cogity ho fatto un podcast qualche tempo fa su quella che ho chiamato la sindrome della transitorietà cioè quell'aspetto di considerare ogni cosa della propria vita come transitorio ora se noi andassimo a scavare bene su quell'atteggiamento del multipotenziale come giustamente hai detto tu questo può diventare anche la scusa buona per dire ah ecco io non concludo non faccio perché sono multipotenziale che poi magari non è vero magari sei solo pigro e vuoi raccontarti la storia per giustificare quella pigrizia come combini questo aspetto con il fatto che poi in realtà non possiamo considerare le cose che facciamo come transitorie cioè alla fine alla fine tu hai fatto un investimento tuo emotivo psicologico personale adesso su un'attività che io per quanto tu sia disposta a fallire non credo che tu stia pensando già al piano B al piano C e penso che tu sia dentro il tuo percorso concentrata concentrata su quello come connetti queste due cose mi senti? ho perso un pezzo come connetti queste due cose queste due cose esatto da un lato il multipotenziale dall'altro il fatto che però adesso devi investire 12 ore al giorno su quella roba lì cioè c'è stato un momento in cui hai cambiato l'atteggiamento cosa è successo cosa è cambiato a un certo punto è interessante questa riflessione perché la multipotenzialità arriva un momento dove devi affrontarla di petto e ti dico nel mio caso quello che è successo è che io ho capito che la mia multipotenzialità non era un qualcosa di transitorio quindi non era un qualcosa che potevo saltare della serie ok ho capito sono multipotenziale bene andiamo oltre no me la sono semplicemente messa nel mio zainetto e me la sto portando dietro quello che ho fatto è quello che adesso aiuto gli altri a fare ovvero lavorare a quella che è la mia intersezione io parlo spesso di posizionamento di ikigai insieme perché secondo me sono due elementi che si alimentano l'uno con l'altro l'ikigai è sostanzialmente l'intersezione di vari aspetti cioè in cui sei bravo cioè in cui effettivamente sei performante ciò che il mondo vuole da te ciò per cui puoi essere pagato insomma secondo me per portare avanti un qualcosa un progetto tu devi avere chiaro qual è il tuo ikigai ora tu dirai e come lo trovo questi ikigai ma è necessario trovare questi ikigai no perché non tutti effettivamente devono avere la necessità non è che devono avere non ce l'hanno magari la necessità di trovare una motivazione una ragione per esistere per svegliarsi la mattina per me era importante quindi io ho lavorato prima a trovare questa intersezione quindi ho valutato in maniera il più oggettiva possibile tutte quelle che erano le mie esperienze capacità e abilità dopodiché sapendo che ero multipotenziale ho fatto un lavoro di abbraccio di gruppo nel senso che ho cercato di mettere insieme gli aspetti che sapevo anche contraddistinguermi e farmi felice perché io metto in campo mi sento felice e da lì ho detto a prescindere da come si evolverà il mio lavoro a prescindere da come si evolverà il mio progetto queste sono delle cose che mi appartengono e quindi non esiste la transizione esiste l'evoluzione in questo senso perciò mi evolverò come multipotenziale continuerò ad avere tante skills e tante cose ma sarò sempre io il centro di tutto questo universo resto io come individuo ok ok hai detto una cosa interessante vorrei capire cosa intendi su questo davvero sei convinta che ci siano delle persone che possono andare avanti senza porsi la domanda o senza trovare no però chiedersi ma che diavolo mi fa alzare le chiappe al mattino magari non in maniera cosciente nel senso ci sono delle persone che probabilmente decidono di salporsi in maniera consapevole questa domanda cioè cosa voglio fare magari se la pongono più tardi più avanti magari non è un qualcosa che percepiscono come urgente nel senso che non lo so per me per esempio io mi sono svegliata da ragazzina a 12 anni che già mi chiedevo che ci faccio qua che cosa voglio fare dove voglio arrivare parlavo con i miei coetani e questa cosa sinceramente non l'ho verificata nel senso non vedevo non vedevo appunto la stessa urgenza nelle persone che avevo intorno a me e crescendo mi sono resa conto che ho attirato a me delle persone simili e quindi chi ho intorno si sta cercando il suo ikigai sta cercando la sua intersezione però ho conosciuto anche tante altre persone che semplicemente sono contenti di vivere in maniera sembra brutto da dire però ripetitiva la propria quotidianità nel senso che non vivono in maniera intenzionale accolgono quello che c'è e annodano un giorno è una cosa mi è fatto venire un brivido la vita vissuta in maniera non intenzionale però pensaci nel senso anche no mi rendo conto che è vero mi rendo conto che è vero ma detta così l'hai detta proprio in modo crudo vivere la vita in modo non intenzionale se lo dico io in un video mi ammazzano ma infatti non lo so cosa ne sarà di me dopo questo dedicogito però ti dico ma anche io ho riflettuto molto su questo concetto mi sono chiesta fino a che punto stessi scegliendo quello che volevo fare e quanto invece mi stava semplicemente capitando e ho fatto questa riflessione in realtà anche in una situazione abbastanza delicata nel senso che io ero in un periodo in cui non stavo bene perché stavo facendo un lavoro che veramente io era un burnout ma burnout assoluto ricordo di averne parlato con mio padre in maniera proprio a cuore aperto una conversazione che io con mio padre così non l'avevo mai avuto anche perché mio padre era sempre stato quello del posto fisso quello del trovati un qualcosa che ti dia una ritribuzione che ti dia no? il classico quando io gli ho spiegato che mi sentivo vuota cioè che io mi svegliavo la mattina non sentivo niente dicevo se la vita è così per me non ha senso lui mi ha guardato e mi ha detto no tu devi essere felice se questo lavoro non ti piace molla lo fai quello che vuoi fare quando mio padre mi ha detto questa cosa mio padre ripeto l'uomo del posto fisso io sono rimasta sconvolta e proseguendo su quella linea avendo poi tutte le decisioni che ho preso la cosa che mi ha che mi ha anche commosso in realtà è il fatto che io poi ho mantenuto queste conversazioni con mio padre l'ho aggiornato passo passo di tutte le mie evoluzioni mio padre si è ascoltato il mio podcast gli ho fatto leggere l'introduzione di un progetto a cui sto lavorando in questo momento e lui mi ha detto se io avessi letto queste cose prima probabilmente non farei quello che sto facendo tosta questa tosta tosta mio padre ha 57 anni quindi dico secondo me tutto parte appunto da un processo introspettivo e dal capire se veramente ti interessa agire in maniera consapevole oppure no e dipende anche da quando lo capisci perché poi da lì si snodano tutta un'altra serie di eventi certo 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 no questo è un punto molto interessante peraltro poi quando cioè nel senso quando una figura che hai sempre cristallizzato in un certo modo dice una roba del genere cioè no per me è stato impatto proprio meteorite è stata una roba pazzesca interessante non ci avrei mai scommesso mezza moneta in questo senso invece adesso anche lui è lì che caldeggia altre cose libera professione eccetera che per me è fantastico spettacolo spettacolo quindi si può iniziare a vivere intenzionalmente a un certo punto nella vita se fai certe esperienze probabilmente sì ma sai cos'è che secondo me adesso siamo anche facilitati in questo senso perché abbiamo la possibilità di seguire le persone delle quali ci vogliamo far ispirare prima non era così prima non avevi questo contatto diretto io dico Rick mi ispira mi ascolta il suo podcast e mi dà un'influenza positiva mi dà delle informazioni nuove fai in qualche modo cioè risciacqua le mie acque stagnanti prima non era così quindi secondo me in questo senso noi abbiamo un grande vantaggio per questo che io insisto sempre tantissimo sul discorso del scegli bene le persone da seguire scegli bene i tuoi mentori scegli bene le persone dalle quali assimilare le informazioni che poi ti serviranno per crescere perché è tutto lì è tutto lì questo è un punto fondamentale io l'ho ripetuto mille volte in questi anni perché quello che tu dici vale anche per le persone di cui ti circondi nella vita ora è evidente alcune persone non ce le possiamo scegliere i genitori almeno fino a un certo punto della nostra vita quelli sono un lancio di moneta ci è andata bene o male o nelle mezze sfumature un po' bene un po' male però poi per esempio le persone di cui ti circondi sul lavoro nei momenti di svago quelle fanno tutta la differenza del mondo trovo che quella frase che tu hai detto prima che per me è veramente stata importante perché esprime un concetto in modo molto semplice cioè quel vivere inintenzionalmente molto spesso è dovuto al fatto che noi ci circondiamo di persone non intenzionalmente finiamo in un ambito lavorativo che magari non abbiamo scelto particolarmente in modo consapevole ma che ci è capitato per tanti motivi e ci troviamo con dei colleghi che non abbiamo idea sono di una specie diversa magari intellettualmente non abbiamo interessi in comune e tu li accetti ed è quello l'errore vero sono d'accordo poi dall'altra parte ti trovi a ragionare su un fatto cosa che scatena quella consapevolezza perché poi magari ti accorgi che quelle persone non fanno per te però per accorgertene anche lì hai bisogno dell'evento dell'esperienza che ti fa dire ah queste persone chi cazzo vuole avere qualcosa che fare con queste persone non è che siano brutte le persone ma perché non hanno nulla a che vedere con me e anche lì servono degli eventi scatenanti e lì anche sugli eventi della vita a volte ci vuole un minimo di fortuna però poi però poi la fortuna non basta ovviamente perché magari puoi avere l'evento fortunato e però devi avere il coraggio di dire ah no ok io in questo ambiente non ci voglio stare con queste amicizie sono particolarmente sfortunato perché può essere anche quello l'elemento scatenante in realtà secondo me è molto più facile attuare un cambiamento quando sei in una condizione scomoda cioè io per esempio il salto il lascio il mio lavoro e mi dedico i miei progetti l'ho fatto perché non ne potevo più le basette come dice mia madre cioè proprio basta non ne potevo veramente più e questo ha facilitato secondo me il processo di consapevolezza avviene proprio quando ci si sente scomodi quando ti senti un pesce fuor d'acqua quando percepisci proprio l'orticaria io c'erano dei giorni che avevo prurito ma fisico e il corpo che agiva di conseguenza rispetto alla mente è pazzesco poi la connessione che ci può essere tra queste due cose lì lì sei costretto alla consapevolezza perché o permani in questo stato di sofferenza di indolenza di ottimo veramente mi devo risvegliere andare in questo posto parlare di nuovo delle stesse cose fare di nuovo le stesse cose oppure ci do uno stacco a me personalmente ha aiutato fare una riflessione che magari è un attimino troppo metafisica da fare a quest'ora però io a un certo punto ho detto Aria ma se ti butta bene ma bene benissimo tu ci lasci con 80 anni in piedi serena una ne hai di vita una sola non è che finisce questa ti danno un altro gettone nuovo giro nuova corsa no ne hai una quando ti rendi conto che sei tu che c'hai il volante quindi che non c'è l'obbligo del pilota automatico ma che sei tu che scegli lì quando metti la cosa in prospettiva inizi a vedere che effettivamente cioè che cosa ti può capitare ma cioè nel senso ma metti pure che io nel licenziarmi non avessi trovato un lavoro subito dopo fossi dovuta tornare in paese anziché restare a Madrid ma io quello che ho pensato è nel peggiore dei casi almeno non ho rimpianti e secondo me quello deve essere lo starter pack proprio per come la vedo ho solo questa occasione come diceva Bellix it's just ride è veramente così è veramente così è bene bene mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata perché perché molto spesso sono cose che sottovalutiamo però quell'atteggiamento lì credo sia fondamentale peraltro quando hai detto sì cioè quando sei fuori dalla zona di comfort è lì che devi renderti conto questo è il motivo per cui su Delicogito cerchiamo di creare imbarazzo cioè Delicogito vuole essere pensiero critico perché mette in imbarazzo e nell'imbarazzo noi scopriamo cose di noi stessi che altrimenti non scopriremmo purtroppo tu appunto non potendo venire qui dal vivo sei stata messa in imbarazzo poco non ho potuto sperimentare l'imbarazzo però quando allora quando o diventeremo international e quindi avremo tipo anche le Delicogito ti porteremo qua oppure quando apriremo la filiale a Siviglia allora faremo una cogitata dal vivo perché insomma lì sperimenterai l'imbarazzo di Delicogito dal vivo no scherzi a parte veramente è stata una bellissima chiacchierata prima di lasciarci però un rito che io dimentico quasi sempre ma stasera mi ricordo me lo ricordo ragazzi se dovessi consigliare tre libri che proprio ti hanno cambiato ti hanno ti hanno dato veramente qualcosa e dici questi ragazzi dovete leggerli quali sono questi libri allora parto con qualcosa che non ha niente a che vedere con il marketing ed è Paola la biografia di Isabella Yende è un libro che a me ha stravolto la vita intanto perché ho scoperto che ci sono nel mondo delle persone che scrivo in maniera veramente meravigliosa e tu dirai wow bella scoperta hai letto altre cose prima però per me quel libro è stato veramente toccare la sua storia con mano è avvenuta la magia perché era un po' come se me la stessi raccontando seduta sul sul divano accanto a me abbiamo parlato di multipotenzialità e ti dico che per me diventa chi sei che è il libro dedicato alla multipotenzialità scritto da Emilio Boknik è stato un libro che come si dice qua ha marcado un antes in the squest perché veramente da che l'ho letto ho fatto pace con con la mia natura è un terzo libro questa me la voglio giocare bene perché è l'ultima ti direi che è l'autobiografia di King l'autobiografia di King wow non ho mai letto niente di King ma mi è piaciuta l'assoluto biografia io sono una fanatica delle biografie nel senso che adoro scoprire il percorso delle persone come sono arrivate determinate cose eccetera e a me ha colpito moltissimo come dietro una natura comunque sia così tormentata ho letto degli estratti non ho letto un libro intero però insomma so qual è il suo stile e in che modo si approccia a lui la letteratura però mi ha affascinato vedere quali fossero dietro le quinte e soprattutto quali sono le ripercussioni nel momento in cui si riesce ad essere costanti anche nella disperazione e quel libro mi ha veramente dato un ottimo spunto sono dei libri mainstream assolutamente facili scorrevoli forse Paolo un po' meno però comunque sia sono assolutamente alla portata di chiunque leggeteli perché arricchiscono tanto guarda io sto proprio rileggendo in questo periodo visto che qualche giorno fa mi è capitato di farci un ragionamento intorno per caso sto rileggendo Misery non deve morire di King che è una roba veramente incredibile incredibile è un autore che io non amo particolarmente ma ha scritto quelle due tre cose che proprio dici vabbè questo io sono una fifona partiamo dal presupposto che io non posso leggere i suoi libri perché me la faccio sotto ok faccio coming out io non posso guardare neanche i thriller che già sto così tipo ho visto come in italiano Parasita Parasite sì io stavo morendo cioè io durante tutto il film avevo il cuore qua un attacchi cardia feroce ho detto io mai più bellissimo è un film consigliatissimo ma veramente la prossima volta con il volume lo guardo sto film visto che sei un amante delle biografie io non amo il genere biografico però c'è vabbè un autore in realtà che è Emanuele Carrère che ha scritto varie biografie quella di Limonoff e tante altre che io amo molto e ha scritto una biografia che è straordinaria e tu hai mai letto nulla di Philip K. Dick? non hai mai letto nulla? no ok meglio ancora autore straordinario di fantascienza però la biografia scritta da Carrère che si intitola io sono vivo voi siete morti è un capolavoro totale è per me nel genere biografico perché è una citazione di Dick è da un romanzo di Dick io sono vivo voi siete morti è un capolavoro quindi se ti piace il genere biografico e leggi biografie di scrittori di cui non hai mai letto nulla quello è imperdibile spettacolare spettacolare ovviamente anche a voi che state seguendo leggetelo perché è tanta roba bene Arianna è stata una chiacchierata veramente bella io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato insomma il tuo percorso e direi che questa live si conclude dicendo non vivete inintenzionalmente credo sia questo il messaggio finale assolutamente prendetevi tutte le responsabilità del caso che ne vale la pena esatto esatto allora adesso se siete in live non uscite perché vi chiamo qualche momento a leggere le domande e dare qualche risposta quindi tu Arianna non uscirte dalla live mi raccomando se invece siete indifferita se invece siete indifferita condividete la puntata andate a conoscere il lavoro di Arianna trovate tutti i link in descrizione quindi Instagram il suo podcast i suoi libri li trovate in descrizione andate a leggerli e niente noi ci risentiamo molto presto quindi io vi ricordo brevemente che domani saremo in live alle 12 con il Rassegnato Stampa e poi alle 18 con il Daily Cogito e ci aspettano altri giorni molto belli settimana prossima altri tanti ospiti insomma un sacco di roba e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa e non dimenticate e non dimenticate Grazie.